Serata d'onore con Michele Placido al Teatro Comunale di Soverato per l'apertura del cartellone Restart che dà nuova vita al grazioso Teatro della Perla dell'Uionio dopo sette anni senza una stagione su iniziativa dell'amministrazione comunale. È stato il maestro del teatro e del cinema internazionale ad inaugurare la rassegna teatrale con un racconto dialogo con il pubblico, uno spettacolo essenziale ma intenso che non ha una scaletta predefinita ma che a seconda degli stimoli offerti dal pubblico diventa scambio, riflessione, poesia. La cosa bella di questo tipo di spettacoli che veniva fatto molto negli anni passati in cui l'attore si dedica a una serata di dialogo col pubblico e racconta anche i suoi aspetti più privati. Da D'Annunzio a Dante, da Montale a Neruda, da Leopardi a Edoardo De Filippo Placido ha accompagnato con sapienza e a tratti con ironia i presenti in un viaggio affascinante tra la letteratura e la musica napoletana. Accanto a lui i due artisti Gianluigi Esposito alla voce e Antonio Saturno alla chitarra. Non ci aspettavamo un pubblico così preparato sia sul piano della partecipazione al canto, alla musica ma anche la discussione che si è avuta attorno ai grandi poeti. C'è stata simpatia, comprensione, empatia e ci siamo divertiti. Insomma, i grandi poeti mi hanno sempre aiutato ad essere forte. Leggendo Dante, leggendo Leopardi si superano le problematiche.